buongiorno a tutti sono marco cassatella presidente della sica società italiana di immunologia immunologia clinica allergologia oggi è la giornata mondiale dell'immunologia questo significa che tutte le società di immunologia del mondo si adoperano per sensibilizzare il pubblico a riguardo della scienza immunologica che è molto importante per le risposte contro le infezioni e contro i tumori ed anche una giornata per promuovere la ricerca immunologica e i benefici che da essa derivano mai come in questi ultimi tempi l'immunologia è salita alla ribalta dei media e soprattutto a causa della pandemia da corbiter tuttavia l'immunologia ancora non è stata ben compresa non viene ben compresa ricordo che grazie all'immunologia e al sviluppo tecnologico che l'immunologia prodotta in soli 11 mesi è stato possibile sviluppare sperimentare produrre e utilizzare un vaccino contro il covid che ci auguriamo tutti porti a farci dimenticare di questa patologia sic a quest'anno ha voluto far coincidere la giornata mondiale dell'immunologia con univax day che è un evento che si organizza da sei anni in collaborazione con gli atenei italiani quest'anno sono circa una ventina univax day è un evento dedicato ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori per parlare loro dei vaccini e per dare loro un'informazione corretta sulla loro efficacia sui rischi dei vaccini però all'interno di un discorso prettamente scientifico evitando strumentalizzazioni ideologiche il formato del programma univax day prevede all'inizio l'intervento di un immunologo che appartiene all'ateneo locale che svolgerà un seminario di immunologia generale a questo seguirà l'intervento di una figura esperta nel campo dei vaccini soprattutto in campo applicativo che può essere un microbiologo un infettivologo un epidemiologo o altre figure e alla fine di questi due interventi seguirà la messa in onda di brevi interviste fatte ad alcuni illuminati nella ricerca del covid ai quali sono stati fatte delle domande di interesse generale poi seguirà al termine di queste presentazioni la parte più importante di univax day e cioè la partecipazione attiva degli studenti che potranno fare le domande io invito caldamente gli studenti a fare tutte le domande per soddisfare le curiosità che hanno e approfittare di questa occasione per poterle fare in diretta con queste figure ricordatevi i vaccini costano poco sono molto efficaci e ci salvano hanno salvato vite e continuano a salvare numerevoli vite spero che univax day raggiunga gli obiettivi che si propone noi della sicca ce l'abbiamo messo a tutta vi ringrazio di essere a fianco di sicca e auguro docenti e studenti un buon univax day un tema molto importante che vogliamo affrontare oggi è il tema dei giovani e la malattia covid-19 e la vaccinazione anti-covid-19 a partire dal novembre dello scorso anno l'agenzia europea del farmaco ha approvato l'utilizzo del vaccino anti-covid-19 per i bambini dai 5 agli 11 anni si tratta dello stesso vaccino sviluppato da Pfizer e utilizzato per gli adulti e i ragazzi dai 12 anni considerato che in genere di norma nei giovani la malattia si sviluppa in modo meno grave che negli adulti è importante che anche i giovani si vaccinino contro appunto questa malattia utilizzando il vaccino attualmente disponibile ne parliamo con la dottoressa Rita Carsetti che è responsabile della diagnostica immunologica dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù grazie mille Rita per essere qui con noi allora vaccinarsi quando si è giovani vaccinarsi quando si è piccoli contro il covid-19 è vero quello che hai detto tu cioè che la malattia è molto meno grave nei bambini e anche nei giovani in realtà soprattutto nei bambini è meno grave perché c'è una mortalità ridotta c'è un'ospedalizzazione molto molto ridotta rispetto a quello che vediamo negli individui adulti e poi soprattutto nei vecchi però esistono bambini e giovani che si ammalano alcuni di questi individui che devono essere anche ricoverati pensate che circa il 10% delle persone ricoverate dei bambini ricoverati può andare incontro a dover ad andare incontro a malattia grave e quindi finire poi in terapia intensiva inoltre inoltre quello che è stato osservato è che esiste il long covid anche per i bambini e anche per i giovani e un'altra cosa molto importante per i bambini è che c'è il rischio di quella famosa malattia che si chiama MISC che è la multisistemic inflammatory syndrome che è tipica solamente dei bambini e che può avvenire cerca normalmente tipo quattro settimane dopo una malattia anche lieve addirittura non devi essere stato in ospedale puoi avere avuto un covid anche asintomatico e dopo quattro settimane ti viene questa terribile infiammazione che veramente porta a dei danni cardiaci multi organo in realtà questa spesso richiede la terapia intensiva non è che questi bambini muoiano ma perché li dobbiamo sottoporre a questi rischi quindi in realtà i vaccini che esistono per ora per ora ce n'è solo uno che è stato approvato per l'uso dai 5 agli 11 anni poi dagli 11 anni ai 16 anni ai 18 anni ce ne sono altri che sono in corso di approvazione quello che è stato dimostrato è che questo vaccino che esiste per ora è veramente molto efficace perché ha un'efficacia tra il 91 e il 100% degli studi che sono stati fatti e gli studi che sono stati fatti e pubblicati finora sono gli studi soprattutto quelli fatti dalle ditte che hanno proposto poi l'approvazione del vaccino hanno anche guardato gli effetti collaterali fino a 2-3 mesi dopo la vaccinazione perché ovviamente è tutta una cosa nuova l'approvazione come hai detto tu prima è molto recente noi non abbiamo ancora neanche dei dati molto precisi sull'efficacia fatta sul campo della vaccinazione oltre a questi dati pubblicati dalle case farmaceutiche perché la vaccinazione è un evento recente per noi quindi la maggioranza dei bambini per esempio stanno facendo la seconda dose adesso quindi ne sappiamo ancora abbastanza poco però sicuramente gli effetti collaterali sono lievi nella grandissima maggioranza dei casi e sono la febbre, un po' di mal di testa il dolore nel sito di dove è stata fatta l'iniezione quello che si consiglia in caso è di dare un antinfiammatorio ma non prima della vaccinazione soprattutto dopo aver fatto la vaccinazione un attacchipirino, un antinfiammatorio qualsiasi in maniera tale che poi gli effetti collaterali si riducono ma sono veramente di lieve entità mentre come dicevamo prima si previene la malattia una cosa importante che dobbiamo ricordare tutti quanti è che il vaccino è stato fatto per prevenire l'ospedalizzazione e la malattia grave quindi noi siamo tutti un po' scoraggiati quando vediamo che magari abbiamo avuto due o tre dosi di vaccino anche i bambini, anche i bambini succede che hanno magari due dosi di vaccino e poi diventano ugualmente positivi cioè hanno il tampone nasofaringe positivo però anche in questi casi hanno ancora meno di un raffreddore quasi quindi stanno male un giorno e il giorno dopo stanno bene tra l'altro una cosa che è stata osservata è che i bambini diventano negativi ancora prima degli adulti quindi il vaccino anche se non ci protegge dal contagio ci protegge sempre dalla malattia e considerate che stiamo in una situazione in cui le varianti del virus cambiano continuamente e questo vaccino che è stato fatto contro la variante wild type contro il virus ancestrale che non esiste più il virus P1 non è più ormai perché è stato sostituito da Delta, da Alpha prima da tutte le altre varianti adesso da Omicron e Omicron 2 in realtà è un virus che è diventato superinfettivo quindi noi abbiamo tanti bambini che si infettano sono ancora con forme lievi ma sono tanti per cui anche gli ospedalizzati sono tanti nei vaccinati però il rischio di ospedalizzazione è infinitamente minore e la malattia è veramente meno grave quindi che vuol dire? vuol dire che il vaccino comunque genera una risposta del sistema immunitario adattativo che è in grado di proteggerci addirittura di adattarsi alle varianti cioè di fare magari di farti venire un piccolo raffreddore mentre le tue cellule della memoria si stanno adattando per difenderti dalla variante quindi faranno gli anticorpi giusti al momento giusto considerate che senza il vaccino tutti i bambini e tutti gli adulti si sono dovuti difendere essenzialmente con il loro sistema immunitario innato perché il sistema immunitario adattativo è di una lentezza esasperante molto bravo ma ci mette due o tre settimane a fare una difesa che poi veramente funzioni e che elimini il virus questa difesa noi se ce la facciamo col vaccino non abbiamo più paura essenzialmente pensate che appunto abbiamo potuto non abbiamo più lockdown abbiamo il social distancing sì ma manco tanto quindi in realtà il virus gira molto di più ma è molto meno cattivo non solo perché Omicron ma soprattutto perché siamo tutti vaccinati quindi se vaccinassimo anche i bambini perché ancora i bambini vaccinati sono pochi in realtà se vaccinassimo anche i bambini ovviamente la circolazione del virus ridurrebbe non ci sarebbero più bambini che devono andare in ospedale e secondo me saremmo anche tutti più tranquilli perché considerate che i bambini oltre al fatto che non devono andare in ospedale oltre al fatto che non devono avere la MISC o il Long Covid non devono neanche essere una fonte di infezione per i loro genitori e soprattutto per le persone anziane che gli stanno intorno perché poi di fatto la mortalità e ancora esiste per le persone anziane che hanno altre malattie che hanno più di 80 anni eccetera eccetera voi avete visto che anche in quel gruppo di individui in realtà il vaccino funziona perché il rischio di andare in terapia intensiva ma soprattutto di morire è 15 volte più alto per un anziano che non ha fatto il vaccino rispetto a un anziano che invece l'ha fatto quindi insomma il vaccino va bene per tutta l'età i bambini proteggono se stessi e proteggono gli altri pensate a quanto si ridurrebbe la circolazione nelle scuole del virus se i bambini fossero tutti vaccinati perché poi voi sapete che i bambini e tutti anche gli adulti vaccinati sono meno contagiosi perché la carica virale è più bassa perché l'infezione dura di meno e quindi insomma io non vedo proprio controindicazioni al vaccino un altro graditissimo contributo alla nostra giornata Unimax Day ci proviene dalla professoressa Antonella Viola che ringraziamo moltissimo per la sua partecipazione Antonella Viola è professore straordinario di patologia generale all'Università degli Studi di Padova e direttrice scientifica della Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza con la professoressa Viola affrontiamo il tema della memoria immunologica infatti l'esperienza di questi anni relativamente alla risposta immunitaria naturale o indotta dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 ci dice che questa risposta non ci protegge completamente infatti possiamo reinfettarci e anche in alcuni casi ammalarci sebbene fortunatamente non in maniera grave quindi questa risposta immunitaria alla memoria immunologica che si genera ha dei limiti e questi limiti unitamente ai rischi e ai benefici associati alla vaccinazione mostrano delle differenze fra uomo e donna quindi è possibile ipotizzare una futura strategia vaccinale personalizzata che tenga anche conto della diversità di genere prego Grazie, grazie, è una domanda interessantissima e do il mio saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando allora cominciamo col dire com'è la situazione è vero che la memoria immunologica non riesce appunto a bloccare che cosa sta succedendo con questi vaccini in realtà il problema non è tanto dei vaccini ma è proprio anche del virus del tipo di infezione perché così come nelle persone vaccinate non si riesce ad avere una immunità sterilizzante cioè una protezione totale dal contagio ma appunto a volte ci si ammala e anche con febbre, mal di testa, mal di gola anche nelle persone guarite si vede che c'è la possibilità di reinfezione soprattutto da quando c'è Omicron è chiaro che ci si può reinfettare e tra l'altro il tasso di reinfezione sta aumentando molto in tutti i paesi compreso il nostro perché dunque accade questo? Beh, prima di tutto le ragioni sono diverse uno ovviamente c'è il virus che cambia e quindi cambiando il virus inserendo delle mutazioni si fa sempre più fatica gli anticorpi che sono stati generati verso virus, varianti precedenti fanno fatica a riconoscere con la massima efficacia le nuove varianti ma non è solo questo uno dei problemi che si riscontra è che quando noi facciamo una vaccinazione induciamo sì un'alta produzione di anticorpi nel sangue il problema è che poi questi anticorpi devono essere presenti anche nelle mucose nelle mucose della via respiratoria della bocca, nel naso le cosiddette IGA che sono una sottoclasse di immunoglobuline che è presente appunto sulle mucose e che ha la funzione proprio di bloccare l'accesso al virus ora quello che in generale per i vaccini in generale è difficile mantenere alto nel tempo un titolo di immunoglobuline di tipo A quindi di immunità mucosale protettiva in questo caso quello che effettivamente si vede è che i vaccini mantengono magari anche un titolo in circolo quindi gli anticorpi sono in circolo ma calano molto rapidamente a livello delle mucose e solo in una frazione di soggetti si ha una buona produzione una buona attivazione di questa attività mucosale quindi il virus riesce a entrare questo è il problema il virus riesce a entrare ed entrando comincia ad attivare il sistema immunitario l'infiammazione quindi avremo la febbre avremo dolori poi è ovvio che essendo vaccinati vaccinati con ben tre dosi ci sarà quella memoria immunologica quindi i linfociti T che si attiveranno si attiveranno anche i linfociti B le plasmacellule la produzione di anticorpi che daranno ancora di più una mano e si riuscirà più velocemente senza conseguenze gravi ad arginare l'infezione oggi ancora oggi nonostante Omicron questi vaccini le tre dosi di vaccino proteggono con un'efficacia intorno al 91% dati italiani quindi vuol dire che c'è una ottima efficacia dalla malattia severa ovviamente invece dal contagio il tasso è molto più basso il punto è capire come si andrà avanti nel tempo cioè se questa efficacia diminuirà anche essa o se invece almeno la protezione dalla malattia severa con tre dosi rimarrà stabile che ovviamente è quello che tutti ci auguriamo il punto è che se molto della malattia del contagio dipende da questi anticorpi e questi anticorpi spariscono l'efficacia dei vaccini nella protezione dal contagio sarà ovviamente sempre sempre più bassa come stiamo osservando per quanto riguarda invece la seconda domanda cioè l'efficacia e la sicurezza di questi vaccini negli uomini e nelle donne questa è una bellissima domanda perché diciamo che in questo caso quando sono c'è stata un po' di fretta nella produzione non fretta diciamo urgenza nella produzione di questi vaccini ma in generale l'analisi dissociata dei dati per genere non è una cosa che va molto di moda nella medicina adesso ovviamente in tutti i trial clinici le donne sono incluse però poi si aggregano ancora tutti i dati e non si va a vedere separatamente Moderna e Pfizer hanno fatto questa cosa quando hanno sviluppato i loro vaccini hanno distinto l'efficacia ma hanno visto che era simile l'efficacia negli uomini e nella donna dei vaccini era assolutamente sovrapponibile quello che non è stato fatto è vedere invece gli effetti le reazioni avverse gli effetti collaterali insomma che seppure modesti seppure assolutamente tollerabili sono decisamente di più nelle donne in Italia il 71% delle reazioni avverse è stato segnalato da donne quindi chiaramente ci sono dei paesi europei in cui si arriva all'83% quindi davvero la reattogenicità di questi vaccini è un problema che riguarda prevalentemente il sistema immunitario femminile il motivo allora non è così sorprendente un po' ce lo aspettavamo perché anche in studi passati sullo shock anafilattico su in generale appunto le reazioni avverse ai vaccini si era visto che colpisce di più le donne rispetto agli uomini e il motivo lo abbiamo detto tante volte le donne hanno un sistema immunitario appunto più forte più reattivo che permette di combattere forse meglio le infezioni e come abbiamo visto anche col covid ma d'altro canto il rovescio della medaglia è che l'ottanta per cento dei pazienti che soffrono di patologie autoimmuni è di sesso femminile sono donne quindi a dimostrare quanto i due sistemi immunitari sono effettivamente diversi e quanto quindi sarebbe importante cercare di definire meglio anche il dosaggio i protocolli a seconda del rischio sì ma anche del rischio di reazioni avverse sulla base del genere per il momento mi sembra un'ipotesi molto lontana ma se vogliamo veramente andare verso quella medicina personalizzata di cui tanto parliamo non sarebbe male iniziare a distinguere tra uomini e donne che tutto sommato sono il 50% quindi sarebbe un bel inizio un tema molto importante che vogliamo affrontare oggi è un tema sia di natura etica che di natura scientifica e riguarda la disparità che indubbiamente esiste fra i paesi del mondo sia in termini di accesso alle cure che in termini di accesso alla prevenzione delle malattie prevenzione che ovviamente è ottenibile proprio grazie all'uso dei vaccini affrontiamo questo tema con Angela Santoni che ringraziamo moltissimo per la sua partecipazione Angela è professore merito di immunologia immunopatologia all'Università della Sapienza di Roma è direttore scientifico dell'Istituto Pastore Italia e nonché past president della nostra società di immunologia in particolare ad Angela chiediamo questo sappiamo che sono presenti iniziative su base internazionale volte a garantire la disponibilità di un numero adeguato di dosi vaccinali anche per nazioni meno ricche nonostante questo ad oggi l'accesso ai vaccini non è ancora eco quali sono gli ostacoli al raggiungimento di questo obiettivo e se non ci sarà un'adeguata campagna vaccinale in aree povere del pianeta non si corre il rischio che il virus continui a circolare in queste aree favorendo anche l'emergenza di varianti che potrebbero riprendere a circolare in collettività già vaccinate? Allora grazie innanzitutto per avermi invitato a partecipare anche quest'anno alla giornata di Univax il mio cuore è sempre con la SICA quindi devo dire sono molto contenta allora la domanda che tu mi poni è sicuramente una domanda complessa noi siamo in questo momento in una situazione in cui circa il 65% della popolazione mondiale è stata vaccinata e con l'Italia che addirittura è tra i paesi in cui si è completato maggiormente il ciclo di prima e seconda dose di molti vaccini quindi circa l'ottantaquattro per cento dei nostri cittadini è vaccinato ma con una disparità notevole nel mondo per quello che riguarda il reddito il reddito medio infatti abbiamo paesi che hanno un reddito che diciamo alto o medio alto in cui la percentuale di vaccinati risulta del intorno al settanta per cento varia dal sessanta all'ottanta per cento ci sono paesi come il Cile che per esempio ha una percentuale di vaccinati che del che supera il novanta per cento dall'altra parte abbiamo invece i paesi a basso reddito a bassissimo reddito in cui la percentuale di vaccinati non è superiore al quindici per cento con addirittura paesi dove non supera l'uno due per cento alcuni di questi paesi sono in Africa eh per esempio il Senegal è il quattro per cento eh il Congo lo stesso ha una percentuale la Repubblica Democratica del Congo ha una percentuale molto bassa ma anche in alcuni paesi dell'Asia eh come per esempio l'Afghanistan dove molto spesso la percentuale bassa di vaccinati correla con lo stato del dei servizi sanitari del paese nazionali più sono fragili e deboli e e minore chiaramente la percentuale di vaccinati lo Yemen è un altro paese in cui è molto bassa la percentuale di vaccinati quindi è ovvio che ci sono delle disparità notevoli e e nel passato sia la Banca Mondiale diciamo ha in qualche modo investito finanziamenti sia una alleanza che normalmente è coinvolta nella distribuzione equa dei vaccini soprattutto per i bambini che si chiama GAVI la Global Alliance for Vaccine and Immunization sono fin dall'inizio diciamo della pandemia sono state coinvolte a a promuovere la vaccinazione in questi paesi in in modi diversi cioè non solo cercando di avere donazioni di vaccini dai paesi più ricchi sempre nell'ambito di un discorso di solidarietà ma anche cercando di rafforzare quelle che sono le strutture eh sanitarie ricordo che i primi vaccini contro il covid che sono stati approvati sono stati vaccini ad RNA che richiedono delle condizioni di conservazione del vaccino particolari che sicuramente sono più difficili da ottenere in paesi eh con un clima come quello dell'Africa o comunque come sud-est asiatico quindi nei paesi poveri del sud-est asiatico perché poi lì abbiamo anche Corea Hong Kong e quatt'altro eh e quindi da una parte c'è c'è stata una spinta a raccogliere finanziamenti per acquistare i vaccini dall'altra parte anche quella di rafforzare le strutture eh tali per poter conservare questi vaccini ed infine cercare di facilitare la distribuzione dei vaccini in questi paesi allora il Gavi eh insieme ad un'altra alleanza che lo stesso lotta e si chiama Cepi che in qualche è stata inizialmente sponsorizzata dalla Norvegia e che vuole essere raccogliere finanziamenti per essere pronti alle eventuali pandemie che insorgono eh ma anche diciamo insieme chiaramente a l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Unicef hanno eh organizzato una task force all'interno del Gavi che si chiama COVAX proprio per eh cercare di eh appunto ottenere finanziamenti per da una parte acquistare i vaccini e dall'altra parte come dicevo rafforzare quelle strutture eh sanitarie necessarie per l'immunizzazione da all'inizio eh diciamo eh COVAX è riuscita a a distribuire già più di un miliardo di dosi un miliardo eh cento milioni di dosi in oltre eh centocinquanta paesi devo dire che eh quando uno pensa ai paesi poveri pensa sempre solo all'Africa ma in realtà eh in paesi in cui il Gavia il COVAX ha distribuito i vaccini sono presenti anche in Europa il Kosovo eh la Moldavia eh l'Albania ehm altre diciamo ex repubbliche eh russe quindi eh la distribuzione non ha riguardato eh solamente diciamo l'Africa o alcuni paesi dell'Asia ma anche ma anche appunto i paesi poveri eh dell'Europa sono state donate dosi di vaccino ehm in primis dagli Stati Uniti eh ma subito dopo anche da paesi e devo dire che anche l'Italia è stata generosa in questa azione eh se ricordo bene l'Italia ha donato oltre settanta milioni di dosi chiaramente gli Stati Uniti ne hanno donati eh quasi un miliardo insomma però eh quindi con differenze notevoli però credo che sia il terzo quarto paese eh proprio nella donazione di dosi di vaccino ora eh proprio oggi c'è un summit eh che è diciamo preseduto appunto da COVAX e dal governo tedesco perché la Germania è stata una dei paesi eh in Europa che maggiormente ha appunto sponsorizzato i vaccini la hm diciamo distribuzione nei paesi a basso reddito dei vaccini contro il covid eh proprio oggi c'è un summit proprio per nuovamente raccogliere ulteriori finanziamenti per acquistare e e quindi facilitare la distribuzione e promuovere la distribuzione dei vaccini eh devo dire che eh questa è un'azione veramente meritevole lo strumento che viene usato si chiama advanced market ed è uno strumento in cui eh che era stato precedentemente utilizzato sempre dal Gavi per la vaccinazione nei confronti dell'opneumococco ed è uno strumento in cui l'Italia ha economico eh appunto questo dei dei vaccine bond eh delle azioni proprio per per i vaccini in cui l'Italia ha giocato un ruolo importante proprio da un punto di vista ideativo e proprio per questo diciamo eh l'Italia è un paese che viene molto rispettato all'interno eh di questa alleanza ora quindi questa è una problematica l'altra problematica è che chiaramente l'Africa eh compra il novantanove per cento dei vaccini che vengono distribuiti ehm devo dire a dei prezzi che sono eh in qualche modo discussi e contrattati con le varie eh aziende farmaceutiche eh pur essendoci già oggi delle realtà in Africa eh in cui le 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 stesse case farmaceutiche potrebbero produrre vaccini e producono vaccini chiaramente eh l'Africa appunto paesi come il Mali il Sudan ma c'è anche il Sudafrica e e proprio in Sudafrica eh lo giugno dello scorso anno eh è stato creato un hub di Moderna proprio per poter eh produrre in loco eh dei vaccini ad RNA direi che non è solo il Sudafrica il paese lo stato dove esiste le le esistono le competenze le capacità quello che si chiama capacity building per produrre vaccini ma anche per esempio in Senegal a Dakar eh è stato prodotto nel periodo dell'epidemia nei confronti del virus di Ebola è stato prodotto lì il vaccino eh ed è lo stesso l'istituto Pasteur di Dakar è coinvolto direttamente nella produzione del vaccino nei confronti della febbre gialla eh ci fu un'epidemia in Angola quindi come ci sono in Nordafrica in Marocco in Egitto quindi delle possibilità di produrre vaccini in Africa esistono e qui si si discute poi di un'altra problematica che è quella della proprietà intellettuale eh circa due anni fa l'India eh e la e il Sudafrica a cui poi si è giunta l'Australia e gli Stati Uniti avevano fatto la proposta di rinunciare in qualche maniera ai diritti della proprietà intellettuale e quindi di favorire la licenza e la la produzione diciamo dei vaccini in paesi che hanno la capacità di farlo io ho dimenticato di parlare dell'India ma l'India è autonoma per quello che riguarda la produzione diciamo dei vaccini quindi e su questo sono quasi passati due anni dalla proposta iniziale l'Europa ha chiaramente il Parlamento europeo diciamo dichiarato di essere contraria probabilmente per interessi di tipo economico finanziario ad essere contraria alla rinuncia alla proprietà intellettuale dei vaccini adesso si sta arrivando ad un compromesso e speriamo che in tempi brevi questa problematica si possa risolvere in modo tale che in futuro si vengano a creare anche quelle condizioni di competenze e di strutture tecnologiche che favoriscono la produzione di vaccini in paesi che hanno un reddito basso è ovvio che tutto questo crea come accennava Roberta una situazione di inequità una situazione di inequità che non solo è svantaggiosa per le persone che vivono in questi paesi a basso reddito quindi piove sempre sul bagnato come mi piace dire ma anche in realtà se non si riesce ad avere una vaccinazione globale tutto ciò favorisce la circolazione del virus quindi noi dobbiamo cercare quanto più possibile in tempi quanto più brevi di raggiungere questo obiettivo fermo restando che questa non sarà una situazione in cui noi riusciremo ad eradicare completamente il virus c'è sempre la lotta che noi dobbiamo affrontare nei confronti del virus che tende ad evadere quindi è ovvio che questo però in qualche maniera dobbiamo evitare che circoli perché una delle caratteristiche dei virus ad RNA in particolare anche di SARS-CoV-2 del virus del COVID-19 è quello di andare incontro a mutazioni e quindi a varianti e questo processo si attua principalmente quando il virus si replica quindi dobbiamo da un lato fare in modo che il virus circoli di meno si replichi di meno nell'ospite nell'uomo in modo tale da poter evitare che si appunto generino queste varianti e che quindi persista quanto più possibile una situazione di infezione a livello globale ora voglio anche dire perché il sistema immunitario stesso spinge a fare queste varianti ma quindi in questa continua lotta che c'è tra ospite e virus speriamo di avere sicuramente la meglio e di poter resistere grazie mille Angela per questo prezioso preziosissimo contributo molto chiaro che appunto ha fatto luce un po' su quelli che sono ancora le problematiche da risolvere per una campagna vaccinale veramente globale e anche come dire sottolineato quali poi possono essere le conseguenze di una campagna comunque limitata come si dice una solidarietà interessata la nostra certo grazie direi che definizione migliore non non possa esserci grazie ancora e niente speriamo di averti nuovamente ospite nelle prossime edizioni di Univax Day grazie mille a presto grazie grazie a te Roberta e grazie a tutti i soci della SICA arrivederci arrivederci